sony hx 50 settata sul 50p cioè come modalità video 50p stabilizzatore attivo settata i auto è tutta automatica troppo sotto il sole non si riesce a intravedere molto nel display in questo display cosa si vede è molto stabile la ripsiano e comunque tanto saranno credo un 25 per 20 per comunque tanto mi avvisa che c'è un po di vento infatti ho messo che filtra il vento dice proprio il sole faccio uno zoom sulle barche finché si rimane così è comunque stabile però quando vado a zoomare comunque anche così bene o quando vado a zoomare tutto equivalgono a mille cento metri inizia essere un po non tanto stabile invece lascio un po anche così è comunque stabile l'ho